Costigliore d'Asti ha fatto festa con Rosso Barbera, un evento, una manifestazione dedicata al vino principale, al vitigno principale che viene coltivato in queste terre meravigliose. Costigliore d'Asti è una zona di frontiera a suo modo tra il Monferrato e la Langa, il castello ospita anche la sede del consorzio di tutela ed è qui che da cinque anni viene ripetuta questa manifestazione che richiama il rosso di questo vino sanguigno, un vino protagonista in tanti modi, in tante declinazioni con le etichette, oltre 400 etichette di 220 produttori da tutto il territorio ma anche da tutto il mondo perché Barbera, la Barbera è un vino internazionale. Quest'anno declinato anche nell'abbinamento con il Lambrusco, partirà da quest'anno un connubio con altri vini di altri territori. Ma non c'è solo questo, ci sono anche altre iniziative in corso d'opera, una delle quali riguarda anche il Moscato, l'altro vitigno principe di queste terre. Dal prossimo maggio, dal maggio 2025, ci sarà una manifestazione che si chiamerà Oro Moscato, dedicata ai produttori di questo vitigno. Dal Rosso Barbera all'Oro del Moscato, Costigliole è tutto da scoprire. Sindaco, un successo? Rosso Barbera è più che mai un successo? È un successo, diciamo che quest'anno abbiamo fatto la cosa in grande, se si può dire, siamo ormai giunti alla quinta edizione, quindi abbiamo dei numeri, è ancora presto per fare dei bilanci perché siamo proprio nel pieno della manifestazione, nella giornata di oggi ci aspettiamo quello che dovrebbe arrivare e che è nelle nostre aspettative. Però già parlare di 200 e più produttori, di tanti abbiamo purtroppo dovuto dire di no perché lo vedrete adesso nelle nostre sale, abbiamo tutti i tavoli pieni. 200 produttori che vogliono dire 400 tipologie di Barbera e questo è già un successo in se stesso perché parliamo del più grande banco d'assaggio della Barbera che esista al mondo, come non esiste al mondo un territorio come Costigliole. Noi quest'anno promuoviamo anche un brand, il capitale della Barbera. Lo siete anche di fatto perché voi avete la più alta densità, la più alta superficie coltivata a Barbera. Assolutamente, a Costigliole oltre ad avere il maggior numero di aziende e di produttori che si dedicano alla coltivazione della Barbera abbiamo la più vasta superficie al mondo di produzione di Barbera di OCG. Poi in questo castello si sono scritte pagine importanti della storia della Barbera e del vino. Pensate che nel 1820 il marchese Filippo Asinari di San Marzano partì proprio da Costigliole con una partita di vino e oltrapassò l'oceano. Arrivò fino in Brasile, a Rio di Janeiro e all'epoca è stata una cosa eccezionale.